La conferma di nuovi licenziamenti in Brioni, 24 per la precisione, riaccende le preoccupazioni intorno ad un'area, quella vestina che da anni deve affrontare una crisi senza via d'uscita. Il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, conferma che sono stati intavolati i discorsi con il management di Brioni per porre un freno a questa situazione. Abbiamo chiesto assicurazione, un nuovo piano industriale, ma soprattutto anche una collaborazione con i sindacati proprio per tutelare i livelli occupazionali. Non c'è solo Brioni, ma dobbiamo anche sostenere la filiera che c'è intorno a Brioni e noi lo dobbiamo fare davvero con un progetto ad ampio raggio. Il comune di Penne ha più volte rappresentato a Regione Abruzzo l'urgenza di istituire un'area di crisi complessa nel distretto Vestino. Per questo a breve sarà presentato un dossier condiviso anche con gli altri sindaci dell'area. Diciamo che stiamo lavorando per redigere tutti i dati che purtroppo non premiano questo territorio che a diverso tempo sta soffrendo come è noto. Oltre alla crisi Brioni e alla vertenza Brioni ci sono anche tante altre vertenze che sono aperte sul territorio, in particolare quello del campo artigianale. Noi vogliamo dare un forte sostegno, lo stiamo facendo mettendo in rete, come dicevo, tutte le istituzioni. È importante, soprattutto con i fondi del PNRR, trovare occasioni di sviluppo. La questione Brioni sta causando i primi mal di pancia in seno alla maggioranza Petrucci. Le dichiarazioni del capogruppo di maggioranza Federico Domenicone, il quale ha accusato i sindacati di voler portare avanti solo gli interessi dell'azienda e non dei lavoratori, ha suscitato la reazione di Fratelli d'Italia. Il coordinatore provinciale Stefano Cardelli e il consigliere Antonio Vellante prendono le distanze da queste affermazioni, chiedendo la convocazione immediata di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza con, all'ordine del giorno, la sola situazione riguardante la vertenza Brioni.